amici di provercelli channel siamo qui oggi con simone manuello c'è simone allora sei tornato in campo per un pezzo di partita contro il brescia ti chiedo subito però come stai visto che poi si è fatto un po fatica a vederti in campo nelle ultime partite anche complice l'appuntamento con la nazionale under 20 sì esatto saltato qualche settimana cioè qualche giorno con i miei compagni perché per la nazionale poi sono rientrato io sto bene fisicamente sto benissimo sono entrato col brescia penso di essere entrato anche abbastanza bene mi spiace che non abbiamo vinto è stata una partita col brescia difficile c'è stata rispetto alle altre partite abbiamo giocato in casa forse meno intensità dovuta anche alla stanchezza a causa delle tre partite in una settimana che abbiamo giocato però io fisicamente mi sento bene sono a disposizione del mister è l'impegno l'abbiamo citato quello in nazionale under 20 può aver diciamo giocato un ruolo diciamo in tuo sfavore visto che magari ha un po rovinato quella che poteva essere la preparazione di un trittico di gare in questo senso ma penso che comunque si prepara il mister prepara la partita durante la settimana fa vedere i video e quindi comunque se salto questi giorni durante la settimana comunque sono dei giorni importanti però fisicamente come ho detto prima sto bene quindi penso di essere pronto per le partite sono a disposizione del mister ecco tu hai giocato quasi sempre nel centrocampo a tre però anche a Varese sei stato impiegato diciamo in un'altra posizione qualche settimana fa un po' più largo tu dove ti trovi comunque a tuo agio e quali altri ruoli evidentemente potresti essere in quali altri ruoli potresti essere utilizzati sì a Varese abbiamo giocato col 4 4 2 io ho giocato esterno a sinistra sì nel 4 4 2 2 mi troverei meglio in mezzo al campo nel 4 3 invece da mezzala che penso sia quello il mio ruolo il mio ruolo però ogni tanto il mister mi ha provato anche esterno mi trovo bene quindi mi gioco le mie carte anche nei ruoli diversi ovunque dove mi mette il mister va bene Provercelli non ha ancora vinto in questo 2015 adesso si va a Perugia sicuramente con lo stimolo di fare bene certo sicuramente andiamo a Perugia con lo stimolo di fare punti la prima cosa è fare punti sappiamo che tutte le partite comunque da qua alla fine saranno difficili quindi ne mancano 12 e saranno per noi 12 finali e allora speriamo veramente che vada bene grazie a Simone Emanuele nein no no Grazie a tutti!